Ciao a tutti, io sono Aurora, e tu sei? Davide qua! Oggi ragazzi ci troviamo in spiaggia per fare una bellissima challenge! Avvelo! Staremo per 24 ore su un compiabile! Esattamente quello lì dietro di te! C'è là! Sull'unicorno! Chi per primo si arrenderà e vorrà scendere, perderà! Perderà, esatto! Con noi a fare questa challenge ci sarà... Franci il cuginetto! Mario è il cuginetto! E... Gretuccia! Andiamo, su, su, su! Tutti sull'unicorno! Tutti sull'unicorno! Vai, facciamo un film per il palazzo! 3, 2, 3, 2, 1... Oddio, ragazzi! Scusate, la metusa? Oh, mamma! Vediamo chi arriva per primo sull'unicorno! Vai, Ludo, vai! Ragazzi! Siete pronti? Sì! All'inizio inizia la challenge! Chi cade nell'acqua o chi si arrende e vuole uscire perde! Ok, vai! Attenzione! Uno, due, tre, via! È iniziata la challenge, quindi! Chi cade perde! Ludo, dove ti sei messa tu? No, 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 no! Ti sei attaccato alla goda, Ludo! Ah, certo! Mentre inizia la... Ok, guarda, signore! Vai! Guarda, signore! Guarda, signore! Maria, ma è tutto nero sul petto! Cosa hai fatto? Eh, anche Mario ce l'ha in realtà, perché stamattina abbiamo giocato a ruba bandiera e ci hanno messo i numeri, ovvero... E avete vinto o avete perso? Perso! L'importante però è impegnarsi! E poi si ci fa! Vi siete impegnati? Vabbè, quelli là varavano ogni volta... Cioè, uno che andava dietro all'ombrellone e cadià, gli dava il punto e poi diceva... Vabbè, non lo fanno più! Ah, hanno varato, perciò hanno vinto! Varavano, varavano! Ludo, come ti senti? Ma è perché mi sono fatta la bocca! Ti piace stare sull'unicorno? Ovviamente noi non potevamo... Veda, no, no! Veda, veda! Ovviamente noi non potevamo che scegliere come gonfiabile un unicorno! Giusto, ragazzi? Perché ci sono le onde piccole e le onde piccole? Cosa, Luda? Perché non ci sono le onde piccole e le onde grandi? Eh, perché... Il mare non è agitato, fortunatamente! Altrimenti vi trovavate tutti a mare! Ragazzi, scusate! Ma dato che state già da un'ora qui sopra, per caso avete un po' di fame? Mamma mia, quanto fa? Mamma, dacci qua cosa da mangiare! Ma perché ci stiamo girando? Chi vuole patatine, Coca-Cola e aranciate? Io! 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 ! Io! 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 Sì! Sì! Su, su! Papi, portate a bere! Grazie! Piccolissima! Guarda che abbiamo qua! Un'antaraggiata! Abbiamo anche i bicchieri degli unicorni, ragazzi! I bicchieri degli unicorni! Aspettate! Però io sto per cadere! Vai, allora, io voglio fare! Io voglio aprire la panza! che lo sta prendendo? che è la mia ma si muove mi passa Luda cosa vuoi? ragazzi si muove è colpa dell'unicorno ma dove andate con quest'unicorno amanti e indietro è caduta la coca non combinate pasticci ma dove lo metti? aspetta ragazzi non riesco a capire avete distribuito i bicchieri si ma io non credo che l'unicorno reggerà per noi mi sa che tra poco vi ritroverete tutti a mare perché l'unicorno vi abbandonerà Ludo stai bevendo amore tu aspetta per Ludo aspetta Ludo dammi 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 mantieni questo mantieni questo aspetta 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 usa la fanta piano ho toccato una medusa ho toccato a cuore una medusa qualcuno vuole le cannucce? eh giustamente non sappiamo cosa fare in realtà dacci le cannucce amore ma tu sei tutta unicornosa oggi grazie Greta grazie mille cannuccia per Auri guarda che cannucce queste cannucce che belline ok dove le metti? ragazzi mi sono dimenticata di dirvi un particolare chi perde o chi si arrende pagherà penitenza ma tanto io so già chi perderà chi perderà? i due maschietti eh non penso proprio mamma ci potreste aiutare un attimo a mettere le cose? grazie avete distribuito la coca e l'aranciata per tutti? ragazzi l'unicorno lì non lo vedo bene no 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 mi sa che si sta arrabbiando ragazzi volete anche da mangiare per caso? eh abbiamo un po' di difficoltà a mangiare oh no non credi mamma patatine per tutti eccole eccole no 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 non voglio io prendo maio non vuole le patatine ragazzi non le vuole non si non mi fate cadere ragazzi ma qua cadiamo io non ho fame sì sì non la voglio sì vabbè io ho caduto con tutta la coca cola piena ok ok ora posso vivere ci siamo perfetto allora apriamo le pozzi apriamo le pozzi è proprio male è benissimo che combinato vabbè dai non fate cadere niente a mare mi raccomando eh adesso dovrai prenderle l'hai prese? no sono bagnate no mi dispiace ma ragazzi ma come ma sono bagnate? Ludo mi sa che la vinci tu questa challenge ti vedo tutta bella beata guarda me è pure tu ma come siate messi? guarda me vai tenete questi pacchetti tanto non li vogliamo anche io non li volete? no dopo ci rilassiamo io mi devo rilassare non voglio io li voglio mangia mangia prova ah rilassa bene Ludo stai bene? Ludo ti vedo bella guerrita oggi vuoi vincere la challenge? ragazzi io vedo un po' Mario che sta un po' cadendo sinceramente Mario stai cadendo? no attenzione chi cade perde io vedo aurora bellissima sul bordo allora tu sei un po' al bordo effettivamente allora o sta in silenzio o veramente cago no l'unico che è a fortuna sono io perché sono l'unica chi sta proprio messa male sei tu aurora te lo voglio dire ma che cazzo ma che ne voglio fare ma se ne voglio fare Ludo non so dire non cadere Ludo è per quanto mi ciò che fa Ludo sono più grandi braccioli che tu si vedono più braccioli che il tuo corpo va come ti lo metti? benissimo io no quando troppo al bordo lo metto lo metto lo metto lo metto lo metto lo metto io lo metto buonissimo io tengo l'ala voto 10 voto 10 voto 10 Greta? ti stai rilassando Greta? sì voglio perché tu le vuoi tu vuoi allora vuoi Mario? come? voto voto 10 voto 10? io avrei finito voto state resistendo bravi bravi ragazzi bravi mi sa che dopo qui devono arrivare un po' di onde per rendere un po' movimentata la situazione mamma un secondo che devo dire una cosa ai unicornini e ai miei amici e cugini ragazzi facciamo uno scherzo a mamma facciamo uno scherzo a mamma facciamo che lei che c'è una melusa vicino a lei sì mamma dove? 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 gingo bel gingo bel ragazzi non vi vedo per niente bene su questo gonfiabile ma anche la oggi vuole me eh sì anche io mi sto piangendo la grande talmente del tempo che state resistendo che si stanno asciugando tutti i capelli brave mamma adesso non ho più il cuore io già sono asciugati ragazzi ci vogliamo poco fare dai basta mamma vi volete rilassare un po'? no 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 almeno io tieni io te lo facciamo bene che bello quest'unicorno sì a me mi scottano le gambe senti? ti scottano le gambe? vedete è il sole ragazzi dopo aver bevuto e mangiato adesso ci riposiamo un po' ok? senza spingere mi raccomando yes io sto navigando ok ragazzi se volete dormire a posto adesso facciamo un bel schizolino se voi volete dormire io sto qua a navigare io invece vedo se ci sono mettite bravo bravo io Greta e Ludo riposiamo ma io non so dove mettermi mi mettermi ma io fa bella schia va bene Ludo? no ma io dovevo andare ma stai dormendo tu? ma io sto cadendo sto cadendo ma io sto cadendo evviva aiuti non è dubbio ragazzi tutto a posto io sto bene aia 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 Ludo ok in bracciali oddio mia oh giù oh giù oh giù è arrivata non mi sa che cagli allora Greta ok ragazzi l'unica che Francesco è un po' paccio direi ahahahah 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 è un po' paccio ahahahah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho vinto Ludovica. Hai vinto Ludovica. Hai vinto Ludovica. Ma io ho sentito qualcuno che ci schizzava l'acqua. Brava Ludovica. Ma qualcuno ci ha schizzato l'acqua a cosso. Ma io mi ricordo una cosa. Che chi perdeva pagava pegno. Bravi. Quindi voi stasera pagherete tutti i pegno. E sarà Ludovica a scegliere cosa mangerete. Io ho vinto mamma guarda. No mamma non è vero. Io ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ma cosa hai vinto? Guarda ho vinto. Ho vinto. Scendi giù hai perso. Adesso sono caduta. Vero? Vero? Ho vinto. No 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 no. Hai perso. Ludo hai vinto. Va bene ragazzi. Vi saluti qui. Noi vi saluti. Speriamo che vi sia piaciuto. E alla fine ha vinto Ludovica. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Lasciate tantissime bolligioni. In su. Fatelo. E ciao. Iscrivetevi e attivate la campanella.